Le partecipate lucane hanno debiti per complessivi 180 milioni di euro, un patrimonio stimato in 20 milioni di euro, un rapporto debito-patrimonio pari a 20 milioni di euro, un rapporto debito-patrimonio all'8,95 rispetto alla media nazionale dell'1,45% e una scarsa efficacia dei vingoli assunzionali. Dati diffusi dalla Corte dei Conti diventati oggetto di riflessione da parte dei consiglieri Napoli e Castelluccio di Forza Italia. In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, i due esponenti politici, partendo dal disegno di legge sulla riorganizzazione dell'attività amministrativa dell'Alsia all'attenzione del Consiglio regionale di oggi, hanno acceso riflettori sugli enti e società partecipate, affermando che è indispensabile che queste si aprano al mercato erogando i servizi in regime di libera concorrenza. Se si vuole fissare al primo posto il tema della crescita economica, è stato sottolineato, è necessario finanziare la ricerca e l'innovazione, favorire la competizione di sistema, alimentare una più stretta collaborazione tra mondo agricolo, università e enti di ricerca e ideare un progetto Erasmus per gli imprenditori. Riferendosi all'Alsia, i due consiglieri hanno affermato che non potrà mai bastare una legge per cambiare i termini dei problemi, anche se nel DDL ci sono elementi di oggettiva positività. Secondo Napoli e Castelluccio, per la nuova Alsia occorre, oltre all'innovazione, coesione sociale e mobilità tra generazioni, capitale umano e merito.